Buon giorno a tutti, sono Giuseppe Mauro, agente immobiliare Remax. Oggi vi volevo presentare questo immobile che ho appena acquisito. Siamo nella zona di San Nicola la strada, in pieno centro storico, in una corte antica. La soluzione è indipendente su più livelli completamente ristrutturata. Venite con me qui. Buon giorno a tutti. se vuoi altre info o per un appuntamento non esitare nel contattarmi se devi vendere casa, un ufficio, un locale o qualsiasi unità immobiliare in qualsiasi zona sul lavoro e provincia mettimi alla prova